Gregorini Paolo, che è il presidente del comitato che ha organizzato questa maratona, che ci spiegherà anche esattamente come sarà effettuata e si svolgerà dal 20 al 22 di settembre tra la Val Camonica e l'Alta Val di Sole nel Trentino. Esatto, la Dammello Ultra Train, siamo alla sesta edizione, è un evento che raggruppa all'interno tre gare, una di 180, una di 90 km e una di 30. Quella da 30 racchiude il percorso, la pista ciclabile a fondo valle tra Ponte di Legno e Temù, mentre le altre due è un tracciato che si sviluppa all'interno del Parco Nazionale dello Stebio e nel Parco della Dammello, nell'Alta Valle Camonica, sconfinando fino in Val di Sole. Ecco, questo tipo di camminata, di gara, come si contraddistingue rispetto ad altri tipi di camminate o comunque tipo non solo lo Sky Rail? Ma sono, innanzitutto, questo è un percorso non tecnico, ripercorre tutte le mulatiere della Grande Guerra e diciamo ha più, di più resistenza forse rispetto alle Sky Marton e alle Sky Race perché sono appunto chilometri più lunghi ma che vengono percorsi con più calma, ci sono molti più ristori all'interno del tracciato, noi in quella lunga ne abbiamo una quindicina, abbiamo anche una base vita dove uno a metà del tracciato si può fermare, si può cambiare, si può fare la doccia e poi ripartire. Quindi dal punto di vista fisico richiede più resistenza? Dal punto di vista fisico richiede più resistenza perché il primo, pensando che ci calcola, ci mette 33 ore mentre l'ultimo ci mette a disposizione due giornate. Quindi chi è che può partecipare? Chiunque con naturalmente dietro un allenamento abbastanza consistente oppure diciamo più persone abituate a gare agonistiche? Ma no, il nostro scopo appunto è quello di aver creato i tre eventi per avvicinare man mano la lunghezza superiore. Sicuramente tutti possono partecipare ma ci vuole un po' di preparazione e l'allenamento. Poi si è in montagna perché comunque non bisogna lasciare perdere che il percorso è in montagna e quindi un po' di preparazione ci vuole. Per partecipare quindi come si fa? Per partecipare ci si può iscrivere al sito www.amelultratrail.it Prepararsi, allenarsi e poi via. Noi abbiamo l'assistenza sul tracciato comunque 24 ore su 24, abbiamo a disposizione dei medici, tutte le squadre del soccorso appino che sono sul percorso e anche a disposizione di ogni atleta un GPS che viene segnalato alla base man mano che è il suo spostamento e anche chi sta a casa può visionarlo e vedere a che punto è il percorso.